Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi vorrei spiegarvi come fare l'evento ruba o trasporta la scheggia risonante in modalità eroica Prima di tutto dovremmo uccidere i tre nemici che spawneranno all'inizio, se no l'evento non potrà essere avviato Una volta di che li avete uccisi potete o stare sopra la piramide o anche intorno, basta che state dentro il cerchio perché se no altrimenti non andrà avanti Dopodiché dovrete uccidere qualche nemico all'inizio e vedrete che spawnerà una pallina Questa pallina può essere randomica, cioè vuol dire che tutti i nemici che ucciderete potrebbero nascerne una Ovviamente fate molta attenzione perché alcune volte non le vedete, quindi guardate sempre in giro, fate un po' di salti in aria per essere sicuri di vedere tutto lo spazio circostante della piramide Perché alcune volte non si vedono e si fa fatica, quindi per avviare lo step in eroico servono queste palline Cosa dovete fare? Raccoglierle, andare vicino alla piramide come ho fatto io e lanciarle In tutto serviranno 6 palline per avviare lo step in eroico, ovviamente se non si attiva subito alla sesta provate a lanciare anche un'altra pallina Ovviamente cercate di lanciarle il più possibile se ve ne spawnano, non state a contarle, quindi in quelle che vi spawnano lanciatele Dopodiché arriverete a una fase dove ci sarà una cupola, ovviamente sono due fasi che ci saranno nel percorso Questa che state vedendo è un'altra e cosa dovrete fare? Dovrete distruggere queste piramidi o queste forme strane E dovrete uccidere tutti i nemici che ci saranno dentro la cupola, altrimenti se non fate queste cose la cupola non scomparirà e non potrete avanzare con la piramide Una volta che avete fatto questo, tornate alla piramide e lei potrà avanzare Dopo aver completato la seconda cupola e aver raccolto l'ultima pallina che ci servirà per far diventare l'evento pubblico in modalità eroica La piramide arriverà nella sua postazione e farà una cupola, ovviamente vi sbalzerà tutti quanti lontano Dopodiché cosa succederà? Spawneranno due mini boss o un mini boss Dopodiché lo uccidete e quando avrete ucciso questo mini boss o questi due mini boss La piramide inizierà a scomparire e vi rilascerà poi una scatola e l'evento eroico è completato E niente ragazzi, per questo video è tutto, grazie per averlo visto, noi ci vediamo in un prossimo video, alla prossima